vi mostro un canale di bologna per farvi capire perché se piove anche solo per due giorni anche solo uno ma in maniera sostenuta poi c'è un allagamento secondo me siete tutti in grado di capirlo da soli senza bisogno delle mie spiegazioni basta avere gli occhi per vedere vedete l'acqua è ferma e se piove molto e quindi il torrente si ingrossa cosa potrà mai succedere secondo voi con questa situazione beh come dire come direbbe il famoso avvocato catania quando i progetti li fanno ingegneri come moretti la serra morandi alberto morandi e non riccardo morandi danilo moroni che cosa potrebbe mai andare storto mi scusi l'avvocato per la città